Adesso vedete che il contenuto... Ma ce potevi andare prima, coglione, 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 coglione Ma che? Adesso continuiamo a fare di più, ancora peggio, adesso lo facciamo solo su YouTube, porco Dio Finalmente non c'è quella merda di Twitch che ci blocca, oh Adesso vedete che il contenuto... Ma ce potevi andare prima, coglione, 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 coglione Ce potevi andare prima Ma a parte che anche su YouTube non puoi fare quelle cose, però ok Cioè questi sono convinti che sia un problema di piattaforma Ma fallo fa così se lo leviamo dal cazzo pure da YouTube Ma per me può fare quello che vuole, ma figurate, che me frega a me Ci blocca Questi mi sembrano quelli là che vengono lasciati, rosicano e poi fanno No vedi, meno male che non me la sollevava dal cazzo sta troia Sì è vero, un po' così Sfigato di merda, va a zoccoli in un altro paese Adesso vedete che il contenuto vi porto, porco diaz Madonna Bello Mi vogliono convertire papi Mi vogliono convertire Assurdo Assurdo Ma sì, adesso lo facciamo solo su YouTube, dio cane Ma dai, è allucinante sta roba Non ha più quella luce negli occhi dell'altra clip Forse splende di più quando è in compagnia Non lo so Ma proprio panna buttato fuori, proprio non esisto più Cioè tu poi non esiste più Ma come stai, cioè come No vabbè Poveri Non esiste più Non esiste più E' su 14 giorni, dai Cioè Ah vabbè Vabbè Ah pure, cioè Sono stati pure in buoni Rifiutate il ricorso di Già Cioè porco io manco il tempo Ho già rifiutato il ricorso Eh avranno una vista La clip E ti hanno detto Stigazione all'odio Ti piace chiamare la gente così? No vabbè Allucinante Ma chi è quello sotto che è un grande? Sì È il chitano Hai capito? Sei un coglione Lo dico da tempo Siamo di quel coinquilino Che ne so O no regà O no Spero che sia Magari uno che non appare Che lo prende solo per culo Da dietro le guine È la sua coscienza Bellissimo O no Cioè in due secondi Che stronzo è comunque Allora No Che piattaforma di merda Tuo account è sospeso Di così Così Te riammettono prima È inutile che staglia guardando Tanto Non ci puoi fare niente adesso No Tu pure ripazzate il ricorso Cioè ha poco la palla Sei nel mirino papi Stanno complottando raga C'è un complotto Ah mire Perché è colpa nostra In qualche modo Ovviamente sì L'avevo messo pure nell'intro C'è anche Pdar Ve lo ricordate Pdar Il seguace De Matteo Saba L'ultimo samurai Anche lui È convinto Che noi facciamo Bannare le persone Al massimo Noi Diamo un palcoscenico Potenzialmente utile Per i moderatori Velocizziamo il lavoro Che per loro è impossibile Ma non è che noi Segnaliamo direttamente O decidiamo Di far bannare Capito Bannate questo Noi ne parliamo Noi ne parliamo Poi evidentemente Diamo risonanza A dei comportamenti scorretti Questo facciamo Fine Anche perché sono due Due poracci Su Twitch Italia Quindi molti contenuti De questo tipo Penso se li risparmino Però Questo Nel cerbero Nel mirino del ce Colpa del ce Ma chi cazzo è sto Why die fai Ma chi sei Why die fai Why die fai Io cambierei nome Ma chi ti conosce Di pre Mamma mia Comunque quello Quello dietro è un king Sì La voce fuori campo È un king Simpatico Sì sì L'ha citato bene Limitazione Di di pre Di sgarbi Quindi Esatto Un aborto No Aspetta Era Era di pre Contro bonit oliva Sì Contro oliva Sì sì Era lo sgarbi Sì sì Quello era il periodo Che lui voleva essere Il figlio di Vittorio sgarbi Quindi lo provava Pure un po' Inità Assolutamente sì C'è un cazzo da fare Che vengono di Okan A fare le sega al papi Porco dio C'avete un cazzo da fare Di Okan Nulla proprio Questi mandano la gente A segnalare O abbiamo tipo tutto il giorno Però Ok No questa non è una cosa Reale Non è No No però ok Però ok Alla fine A noi fa piacere Che lo pensino Che mandiamo la gente A segnalare No Quello sti cazzi Che non lavoriamo Stavo contestando No che non facciamo un cazzo No che non facciamo un cazzo Capito Ma quella è certo A me l'hai detto Tipo così Voi state male Non ce la fate più Con la testa Porco dio Ce la fate più Fidatevi tutti quanti Tra il cerbero Ti sorprendano Volevo dire A livello di comunicazione Se lega molto al discorso Che stiamo a fare l'altra volta Sul fatto Non andate a insultare Eccetera Anche quella roba lì Cioè almeno io parlo Per me Tutte le volte Che vedo qualcosa E mi viene in mente Che secondo me Se dovrebbe Beckham ban Neanche lo dico Ma appunto Perché non voglio Che poi si creino Diciamo che è auto evidente Magari nessuno poi Va a segnalare No Però potrebbe essere Che qualcuno Per la mia parola Dice c'ha ragione Ma sai che c'è Vado là E segnalo Quindi noi stiamo anche attenti In questo Pur guardando cose grevi Quindi sta cosa Io non gliela permetto No poi ripeto Cioè Semplicissimo Perché non è il nostro compito Noi non siamo la moderazione Di niente Capito Noi dobbiamo commentare Questo facciamo Noi commentiamo Analizziamo Opinioniamo Non è che diciamo Andate a segnalare Bannatolo Oppure questo quadro Deve essere bannato adesso No Anche perché L'applicazione delle regole Non aspetta a noi È una cosa Dove so Che ci sto molto attento Perché lo penso E me lo rimangio Noi conosciamo il regolamento E poi evitare sta roba E spesso ne parliamo Cioè Sta cosa è bannabile Evitiamo delle cose Questo non è Lo conosciamo Poi è anche interpretabile Come la legge del resto Ovviamente E facciamo delle critiche Che possono essere O di natura Ecco tecnica Cioè sta roba è bannabile Tutto Qui c'ho di natura Morale No Di gusto Anche banalmente E poi I moderatori valutano Tante altre volte Tante altre volte Abbiamo parlato Di individui Che poi Non hanno bannato Nonostante Avessero dotato Comportamenti bannabili Per me andrebbe bannato Stantaneamente Chi apre un casino Chi fa una live Chi fa una live Di gioco Questa è una mia cosa Personalissima Della mia morale Potrà avere Una mia morale Personale Infatti L'abbiamo parlato Per tanti mesi Sia con la componente Individuale Morale Sia In relazione Al decreto dignità Che quella Non è manco Una cosa Di Twitch È una cosa Di un Decreto italiano Poi Twitch Ragiona ad esempio In modo diverso Su questo argomento Questo è anche per dire Che non è che siamo i vassalli Di Twitch Del regolamento Possiamo avere anche idee nostre Che invece Twitch Avalla tranquillamente Come negli anni Ha cambiato Direttive Pure per esempio Sui contenuti Sessualmente allusivi Vero Ma anche su Sullo stesso gioco d'azzardo In Italia per esempio A un certo punto Hanno cominciato a bannare tutti Noi lo dicevamo da un anno Eh sì Però fino a quel momento Non avevano applicato Il decreto dignità E non è che bannavano A gente che giova a Casinò Come Omia Dolo Blur Perché noi dicevamo Che sta roba faceva schifo Sì sì 14 giorni Ma voi state Ma state male Raga Ma che per Ma 14 giorni Di merda E meno male Ma che è andato bene Porco Ha 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 pure bene Ma adesso le faccio solo su Youtube Mi ha rotto il cazzo King Ma porco Dio Sono sciacalli da bruciare Ma veramente Addirittura Sì Mi sa che pure questo è bannabile Lo sai Ma che cazzo è Raga Anzi mi sa che pure Divo incitazione all'odio Però ok Sì No Beh Sciacallo da bruciare Vabbè Un po' greve No no Però ok Cioè nel senso Non è colpa nostra Capito Vediamo Cazzo Erika Ma che schifo Addirittura Sì Cosa Cioè Sì Dice lui E lui non se ne accorge mai La voce dell'anima Tutto il casino Tutto normale Tutto normale Sono i Termineto fedeli Sì E quelli Quelli E come Quelli hanno assoltato la gente E c'è Oh Qui dice una cazzata Dai sì La stagarna benissimo Ma perché devi dire cazzata Ma te pare Ma te pare Che cioè Noi già Allora diciamo le cose come stanno Già per noi E' una sofferenza estrema Far bonifico a Marco Chitano ogni mese Certo E a dei Brevan Cioè già Questa è una cosa proprio Tragica E pagare altri collaboratori Addirittura pagare i segnalatori Mi sembra un po' eccessivo No Quelli hanno assoltato la gente E certo Menti di lì come spettatore del Papi E Appena fa una cazzata Ma la bannata Ma secondo te Comunque sta roba Cazzate a parte Lo sapete che E' una convinzione Abbastanza diffusa Ma l'avevamo detto pure Reactando a Paolo Detto Spartano A live quella della Grimosa Che non c'era Marco Cioè C'è molta gente veramente convinta Che noi paghiamo Comunque Diciamo alle persone Visionate H24 Quel canale E soprattutto Il canale del Papi Cioè Il Papi Capito Per farlo bannare Ma che cazzo Ce ne frega a noi Cioè E' più interessante Intavolare un discorso Al massimo A parte che il Papi Direttamente non abbiamo mai Reactato O forse era il suo canale Però parlavamo Di Paoletto Del Papi Del Gabrone Del Social Boom Cioè Era l'ambiente Thailandia No? Sì Il meta Thailandese Non è che abbiamo visto Il canale del Papi Ma anche fosse Cioè Non è che mandiamo La gente Tutta così Pronta per far bannare Poi cosa? La concorrenza? No infatti Spesso pure su altre piattaforme Ma di che cosa stiamo parlando? Magari ogni tanto ci arriva Una mail da un pischello A caso Che magari ha visto qualcosa Ci mandano E ci mandano Una clip Ci mandano delle cose Non è che Non è mai Sempre gente a caso Non c'è una struttura Dietro ciò No I link che ci arrivano Spesso e volentieri Magari è un ragazzo Su Instagram Piate sto link Ma non è che c'è Un'organizzazione O della gente assoldata Ma non c'è Un'organizzazione Per bannare Cioè al massimo Per segnalare No assolutamente Per segnalare Scusami Poi se Devo essere visti Veramente Come sciagalli Come gente opportunista Come gente che sta lì Che aspetta E tutto Dovrebbe essere Nostra convenienza Che sta gente Non venga bannata Tra l'altro Tra l'altro Esatto Con una logica Lavorativa Esatto Esatto Quando tutto questo Sarà epurato Noi non avremo Magari più No ma è giusto dirlo Perché se io Dovrei agire Nei miei interessi Non vorrei Sta gente bannata Semplicemente Come me ne frega un cazzo Avviene quel che avviene Non per colpa nostra Ma se io dovessi scegliere Io sta cosa La dissi pure In faccia A Donali Quando lui mi disse Voi mi volete bannare Sì me ricordo Io gli dissi Guarda che in realtà Per i miei intenti Io vorrei Che quelli come te Non fossero bannati Lavorativamente parlando Io gliela dissi pure In faccia Mi ricordo Però se continui così Ma era il cliente al lavoro Però se continui così Te bannano Infatti dopo 3-4 giorni Fu bannato a vita Sì Ma chi è sta gente Stai diventando Bello buono Sì Papi è normale Papi è normale Questa è l'invidia Questa è l'invidia È l'invidia Questa è tutto un piano architettato Capite È Gollum e Smigol Allora C'è il bello che han bannato Sono pure online quelli del Cerbero Siamo sempre online Allora Sono pure online quelli del Cerbero Lo mi sono fatto a vedere Ma va Probabilmente Sei un È Questa cosa è ieri È il lupus È il lupus E tra l'altro L'hanno giocato Il momento in cui C'era l'interferenza Hai sentito col telefono No vabbè Meliador Volo Ogni giorno una cosa Ieri è il telefono Su Fantastico Ho messo due telefoni qua Bellissimo Quindi è proprio di ieri Sta clip È di ieri È di ieri sera Sì sì Io sto spezzone L'avevo visto Ma va Probabilmente saranno quelli là Per una sola partita Ogni tu Ma che cazzare Ma minchia Ma possono fare una live Con il rumore C'è 1200 200 spettatori Il microfono Il microfono a puntare Bravo Bravo Oh Valla con la Fedez A fare i podcast Hai capito Al capito Ma è una live Con 12 persone Che te staccano i fili Te spengono il mixer Te mettono i telefoni Sulla scheda audio Ogni giorno ce n'è una L'altra volta Hanno dato un car Ci hanno staccato la spina Tutta gente Ma è il bello del cerbero Non è facile Questi sono due Loro stanno col cellulare Poggiato sulla scrivania Ma poi è possibile capire Che per noi lupus Eppure è un momento Dove sta un po' insieme Ma non dobbiamo giustificarci Di niente La realtà è che lupus È un format per la community Sicuramente è un format Non è estroverso Come la maggior parte Facciamo un format Introverso Per ritrovarci noi Una serata È un gioco di ruolo Sempre lo stesso Ogni mercoledì alle 21 Una cosa fissa Che ci dona Un momento di distensione Ma anche di socialità Un gioco divertente Che stimola mente E anche empatia Che comunque ci fa Apprezzare la community E poi ci dà anche modo Di ospitare le persone Che magari in altri contesti De live Non troverebbero spazio Ma per la struttura Dei nostri live Ovviamente Fa entrare molta gente Nel Cerbero Universe Esatto Con un clima Con un clima Che è disteso D'amicizia Non col clima martellante Dei live normali Della pressione No Stiamo là a giocare E anche economicamente Ci sostiene Perché 100 sub Sono quasi sempre State assicurate Incredibile Top format Solitamente Noi non vediamo Manco la chat Quindi Usciamo un po' Dalla dinamica Twitch Vero Poi giustamente C'è poco La cosa che ha meno problemi Di quello che Sto volendo li trovare Oppure c'è chi lo ama La follia C'è chi veramente Si ucciderebbe Per due punti rana C'è chi invece Lo detesta C'è A chi non piace Se salta la live Del mercoledì sera Come chi se Ama o disprezza Il creepy cerbero O mezzo c'è uno di fuoco C'è Ci sono tre format Su 14 live Che facciamo Piacciono Non piacciono Ci piace Cioè Bella Poi se dovete Sparacazzate Boh Fatelo Basta una rosicata Dai Ma ripeto Non ci dobbiamo giustificare Ovviamente Soprattutto Con loro Bravo 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 Oh Marrava da fede C'è a fare i podcast Hai capito? Questo è fattuale E quindi Poi non è una Cioè che presa in giro è Non capisco Io Leggo altro Diciamo Non attacca a me Però Cosa ci leggi? Beh Solitamente sono Attacchi che dicono Molto Di te E poco Della persona Che stai attaccando E cosa dicono Di lui In questo caso Dalla voce fuoricampo Eh Dalla voce fuoricampo Invidia Boh Non vedo altre motivazioni Che vuol dire Che frase Non capisco cosa ci sarebbe Di negativo Magari gli sta Antipatico Fedes Una sua prerogativa Però È l'opinione A me sembrava più Cioè con sta qualità De merda Con i problemi Al microfono Poi va a far podcast Lì Però che cazzo No penso Secondo me Vai lì Carme I microfoni funzionano Sì Ma davvero Dobbiamo spiegare La differenza tra Diretta con 14 persone Tre volte al giorno Cioè Che pure Radio 24 C'ha 200 problemi Al secondo Cruciani che smadonna Ogni volta Con i operatori Pure in tv Ma te che stiamo A portare È la diretta A parte il fatto Che poi Non è che è un prodotto Pagato da qualcuno È una roba fatta In cinque stronzi Che ha problemi tecnici Li ha sempre avuti E li avrà Finché vivremo E basta Abbiamo problemi tecnici Allora Cioè tutti quei canali Perfettini Sempre uguali Non avranno mai Un problema tecnico Perché se fanno La postazione Una volta E magari È quella là Ovviamente c'è uno Da solo Con Podmic Noi qua È un organismo vivente Si evolve Almeno Una specie io Voglio sempre innovare Quello che abbiamo qua Si aggiungono cavi Si aggiungono gadget E quindi È normale Sti cazzi Capito Sti cazzi Meglio il problema Tecnico però Che ti lascia libero Di sperimentare Secondo me Ma poi Ad un certo punto Fa pure ride Dai Cosiddetto Bello Della diretta No Ma veramente Dobbiamo rispondere A se stronzate Evidentemente ha pensato Ho concepito proprio Una frase che devo Ripetere più volte Perché è veramente D'impatto Vai a fare il podcast Con Fedez Vai vai Top argomentazione Marra distrutto Ma come stia messo Stia messo la canna Dio Tario Moccia Twitch Ma no Beh che c'entra Ma proprio Un hate watching Senza senso Proprio Bello hate watching Cioè che guardi Voi ce l'ho di tutti Sì 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 Hate watching Bello Nuovo termine Porco Dio Papi riguardati il VOD Dio Il VOD Ma chi sono Ma chi cazzo sono Sta gente Bannato da Twitch Tu bannato da Twitch Ah beh era il titolo Ah no Il titolo della live su Paoletto forse Perché siamo noi Siamo persone Il titolo della live era Lucas King e Paoletto Bannati da Twitch Per ma Punto interrogativo Ah che era quella Delle 15 Ieri alle 15 Ieri alle 21 Era qualcosa Con lupus Lupus Magari avrà visto Trasmissioni passate Sì probabilmente 15 Era un titolo tra l'altro Fattuale non clickbait Certo Anzi uno dei pochi Non clickbait Non generico Anzi era un po' specifico Non era il classico Finiscila Punto Hai stufato La resa dei conti Sì Questa persona Va fermata Ti sei comportato male Questa volta è troppo Hai veramente esagerato Lui era un amico Ora parliamo Adesso parliamo noi Ora parliamo noi Ce ne so tanti Siamo al limite Adesso basta Dobbiamo fare una cartella Con tutte le strade Perché in ottica di Cerbero Fino a che non moriamo E sai quante C'è un po' infinito È bellissimo Un pozzo senza fuori Hai esagerato Questa volta Hai esagerato Questa volta Adesso mai più Ora basta Sei al capolinea Siamo alla polire La fine punta Hai superato ogni limite La fine pure Sì 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 Sono tutti reali Tra l'altro Oggi ne palliamo pure Vergognati Vergognati punto È uno dei miei preferiti Perché poi c'è Cioè allora Vergogna Punto Vergognati Vergognati per quello Che ci hai fatto Vergognati per questa cosa Disgustosa Cioè È infinito Sì sì Vergognati La pagherai Pure ricordo Sì sì bravo Sei un impostore Stiamo sfiorando il ridicolo Capiamo Sì sì Capiamo è più Capiamo spesso Però è contestualizzato Cioè tipo che ne so C'è sta una frase E poi capiamo Tipo video di Cicalone A termini Due punti Analizziamo Oppure che ne so Dario Moccia Un coglione Due punti Capiamo Sì Esatto Let's go Cioè in due Oh il bello Ho detto Cioè Minchia ieri Han bannato Paoletto Adesso ho detto Minchia Oh mi devo far bannare Occhio Non facciamo cazzare Boom Manco acceso Boom Due secondi Pannato Perché La moderna Eh no Probabilmente Ed è così La moderazione Di Twitch Cioè Ne è che è sempre attiva Tipo se sveglia Ok ogni tanto E si occupa di un problema Evidentemente Si sono occupati In questo frangente De Thailandia Di quella compagine Di te E dei tuoi amici Sì ma magari Si sono svegliati Hanno controllato Le varie segnalazioni C'è stata l'indagine Sui mail Le cose Sì oppure Esatto Non è che Non sanno Che loro collaborano Guardano i contenuti Sanno quello che sta succedendo Quindi non è che è una cosa Solitamente C'hanno Che ne so Una lista Di segnalazioni Che vengono scremate Sì però non è che stanno Tutti i giorni A guardare Twitch Come un occhio osservatore Sono delle persone Che lavorano per Twitch Se c'è un problema Vanno C'è una scrematura iniziale Poi magari visionano Il VOD incriminato Vedono se c'è il minutaggio Valutano magari Dicono Sì per me è da bannare Vai mandano la revisione Arriva la revisione Bannano Poi può capitare Poi quello che diceva Marco Che un moderatore Se fa un giro Ogni tanto controlla i canali Becca proprio il momento In cui tu spari Delle cose gravi E decide di sospenderti subito Può capitare Magari sì